Buonasera a tutti gli amici della Fulver Camera Artificiale a Roma e benvenuti alla 157 puntata della serie Gemma musicale a casa. In questa puntata continuiamo con i preludi del grande club DPC. Oggi vi andrà a suonare il preludio numero 10 tratto dal secondo volume del 1913. Il titolo del brano è Canopo che si riferisce sicuramente a un vaso funerario etrusco, quindi una musica da sapore arcaico, antico, magico, tutto suonato sui colori del piano del pianissimo, quindi un virtuosismo del tocco soffice dei tasti del pianoforte, che rimanda anche come tipo di tocco al preludio del primo volume dei passi sulla neve. Io vi auguro che l'ascolto, ci vediamo alla prossima puntata e vi ricordo nel camp E-PAL info-marcolomuscio.com per le donazioni in tempo di Covid. Buonasera a tutti. Grazie 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 a tutti.